Questa è così frequente che, insomma, le variazioni sul tema sono tante. Bambino di due anni e mezzo, tre anni, tre anni e mezzo, che prima non lo faceva, adesso incomincia a balbettare. È colpa del fratellino, è colpa del fatto che ha subito un trauma, è colpa del fatto che ha delle paure, è colpa del fatto che non dorme di notte. Posso dirvi, non è colpa di niente. I bambini a quell'età lì, quelli che hanno sviluppato già un linguaggio fluente, in qualche modo hanno il pensiero più veloce della parola, cioè in qualche modo pensano più velocemente di quello che riescono a dire e si impappinano e si incantano e tartagliano e sono deliziosi. Accompagnateli senza correggerli, magari senza completare voi la parola, semplicemente date segno che siete lì ad ascoltarli e col tempo ci vorrà qualche settimana, qualche mese, un annetto, ma ne verranno fuori benissimo.